Per la cronaca invece a Siracusa è stato rinvenuto e sequestrato stupefacente. Ieri gli agenti in servizi finalizzati al contrasto della vendita in sostanza stupefacente hanno controllato le piazze dello spaccio. Transitando in via Boscarino hanno rinvenuto e sequestrato una busta in cellophane con otto dosi di cocaina. Gli agenti delle volanti che erano impegnati in servizi di controllo in città hanno denunciato due siracusani, 35 e 43 anni, sorprese a violare gli obblighi a cui sono destinatari. Il 43enne è stato anche sorpreso alla guida di un motociclo senza la necessaria patente di guida. Gli agenti hanno denunciato un 26enne per il reato di furto di un ciclomotore. Intanto ad Augusta gli agenti del locale commissariato hanno eseguito una misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare con la prescrizione del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie a carico di un uomo di origine nordafricana di 61 anni. Il provvedimento si è reso necessario a causa dei continui maltrattamenti che la moglie del denunciato, sua connazionale, subiva da più di otto anni. È stata messa in sicurezza la casa di via San Martino a Floridia che ieri dopo pranzo è andata in fiamme, creando paura tra i residenti. È intervenuti sul posto ai vigili del fuoco unitamente a un mezzo antincegno della protezione civile. Ma si riapre ancora il contesto di degrado che circonda alcuni caseggiati proprio del centro storico di Floridia. E in questo momento stiamo facendo una ricognizione di tutti gli immobili fatiscenti. A risposto il sindaco Marco Cariani non appena avremo questo dato provvederemo ad intimare ai proprietari, ai sensi del regolamento edilizio vigente, di ripristinare gli immobili aderendo alle diverse misure nazionali finalizzate al recupero edilizio. Purtroppo gli immobili fatiscenti sono anche troppi e spesso rappresentano un ricettacolo per topi, sottolinea ancora il primo cittadino di Floridia. A tal proposito anticipa che a partire da oggi si farà una nuova derattizzazione considerata l'ingente presenza di topi riscontrata sul territorio. Decreto di revoca dall'incarico di arciprete della Chiesa Madre di Augusta per Don Palmiro Prisutto, amato e a volte criticato sacerdote, che si è distinto per la sua lotta all'inquinamento del territorio. L'arcidiocesi non ha emanato nessuna comunicazione circa la decisione, visto che sembra trattasi di una revoca che spesso riguarda i sacerdoti che vengono chiamati a prestare servizio lì dove la Chiesa, tramite l'arcivescovo, li chiama ad operare. Non senza spesso il malumore di molti fedeli, che affezionati elevano le proprie contradietà. Don Prisutto non voleva lasciare la sua città. Così, dopo le prime lettere inviate dall'arcidiocesi, è arrivato il decreto di revoca. Il sacerdote, che sui social condivide pensieri ed emozioni, resta rettore del santuario della Madonna dell'Adonai. Molti i contrasti per difendere il territorio dall'inquinamento, alcuni dissapori anche con le confraternite religiose locali. Per un Don Palmiro che si chiede verso dove vuole andare la diocesi e chiede ai fedeli che le chiese di Augusta non diventino bastiglie. Mi auguro, dice, che la comunità ecclesiale di Augusta, dal primo dei suoi pastori all'ultimo dei fedeli, possa vivere in futuro la propria fede e in quella libertà donataci a caro prezzo da Cristo, in spirito di vero servizio, senza epocrisia e senza compromessi. Su disposizione del commissario straordinario del Consorzio di Bonifica della Sicilia orientale, Francesco Nicodemo, in questi giorni sono stati effettuati i lavori di riparazione della condotta in cemento di diametro di 1.400 sull'attraversamento di Contrada Morghella a servizio del canale Galermi di Siracusa. I lavori delle opere consortili, ultimate ieri mattina, consentiranno già dai prossimi giorni di captare l'acqua in eccesso che scarica la centrale Enel Petino e di convogliarla nelle vasche di proprietà del Consorzio di Bonifica Ortonovo e Monteforte per essere immerse da quest'ultime nel canale Galermi e aumentare la portata itrica del canale stesso. A chiarire gli aspetti del completamento del lavoro di attraversamento a servizio del canale Galermi di Siracusa è l'assessore regionale di Bandiera. Un lavoro importante, dichiara il commissario Nicodemo, eseguito esclusivamente da uomini di mezzi del Consorzio di Bonifica e coordinato dal caposettore di Bandiera e dal geometra Corrado Montoneri che ringrazio per il lavoro profuso insieme a tutto il personale che in questi giorni caratterizzati da elevate temperature ha lavorato con grande dedizione e professionalità e consentirà dai prossimi giorni di riversare sul canale Galermi un importante quantitativo d'acqua per l'irrigazione ed alleviare così finalmente i disagi di molti agricoltori che utilizzano il canale. È stato ripresentato allo sportello unico per le attività produttive al comune di Siracusa il progetto Torre Onina Links redatto dalla società siracusana Sun LLC. Il piano presentato intende avviare in un'area di 147 ettari con un investimento di 140 milioni di euro la promozione delle risorse locali del territorio costiero di Onina attraverso l'azienda agricola biologica con istituto di culinaria e una struttura turistico ricettiva e residenze alberghiere private con un percorso golfistico links naturalistico a 18 buche 150 ettari che recuperano due esistenti masserie la costruzione di un centro spa, un centro fitness, una cappella musei, biblioteche, depositi, ristoranti, cucini, istituto culinario locali di vendita, uffici, laboratorio, sale e puluri uso, locali igienici garage coperto ma anche un centro pulifunzionale 5 lotti di abitazione di tipo turistico alberghiero e 12 lotti di abitazione di tipo alberghiero a destinazione residenza alberghiera privata anche un'eli superficie il tutto mantenendo nel pieno rispetto assoluto il piano paesaggistico il progetto infatti è stato ripresentato e dovrà essere discusso dalla nuova conferenza dei servizi la realizzazione assicurerà oltre 400 posti di lavoro diretti e notevoli benefici per la comunità locale dicono in un comunicato la stessa azienda il covid ferma anche quest'anno il palio di San Michele di Canicattini Bagni e riduce le sagre gastronomiche mentre continuano gli appuntamenti del cartellone del 18esimo festival del Mediterraneo tra questi il jazz e il raduno bandistico l'appuntamento con la cultura e le tradizioni popolari della fine 800 e inizio 900 per la 34esima edizione che ha accompagnato sempre gli otto quartieri di Canicattini Bagni per la festa del Santo Patrono San Michele Arcangelo quest'anno non si terrà a causa del prolungarsi dell'emergenza covid la conferma della decisione del Comitato dei Quartieri che cura l'evento e arriva anche dall'assessore al turismo e allo spettacolo a Gazzara e dall'assessore alla cultura a Scirpo cui ha affidato il cartellone del 18esimo festival del Mediterraneo dopo aver raccolto con rispetto la comunicazione del presidente e il segretario del Comitato Corrado Lapira e Alessandro Lombardo il suggestivo corteo storico il museo sotto le stelle con la rappresentazione dello spaccato di vita popolare della Canicattini di fine 800 e il coinvolgente e divertente torneo a coppie su Asini lungo la via Vittorio Emanuele che ha sempre richiamato migliaia di spettatori i giochi tra i quartieri e le sagre enogastronomici e gli eventi folclistici sono rinviati ad uno speranzoso e augurale prossimo anno di normalità una abbracciata di 3,5 km in area marina protetta a Plemirio per promuovere l'utilizzo della nuova corsia 10 e valorizzare il nuoto come mezzo di fruizione ecosostenibile per l'eccellenza del mare oggi un nuotatore esperto con la supervisione del personale del consorzio si tufferà nella zona A per percorrere con la tecnica del nuoto di fondo tutta la corsia fino allo sbocco 22 che rappresenta la parte finale del percorso il fine di fornire un esempio di fruizione e conoscenza ecosostenibile del territorio da un osservatorio privilegiato qual è il mare del Plemirio è Marco Cadauto 40 anni a tuffarsi a partire dalla grande boa gialla di delimitazione della zona maggiore protezione e a percorrere bracciata dopo bracciata sotto l'occhio del personale dell'area marina protetta il percorso che comprenderà i luoghi simboli dell'oasi marina la corsia 10 fino all'ultima boa posta all'altezza di sbocco 22 grazie a tutti Grazie a tutti.